...con un'altra polca, questa volta si chiama Cicogna e dopo aver avuto l'onore di suonare con Marco ho l'onore di suonare con un altro grande sassafonista che presentalo pure A parte, è già arrivato ma c'è poco da dire Signore e signori, Fiorenzo Tassinari Signori, Cicogna, eccola qui Fai con le mani ragazzi, su, su Guarda che lada Fai con le mani ragazzi Fai con le mani ragazzi, su, su ... 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